Ci attende una primavera di promozione del consorzio molto intensa, quest'anno più che mai, incomincieremo subito con Chianine Sirac Cortona a marzo, poi saremo presenti al Pro Wine in Germania e poi saremo al Vin Italy di Verona. È sempre dovere istituzionale del consorzio la promozione, quindi rientra in quelle che sono le programmazioni annuali, ma ogni anno cerchiamo di allargare la nostra opera di conoscenza del consumatore nei nostri vini. E questo comporta grandi sforzi, grandi rischi, che però viene supportato egregiamente da tutto il consorzio e dalle aziende associate al consorzio stesso. 2017 speriamo che sia un'annata buona, meglio ancora se eccezionale. I mercati stanno rispondendo bene, anche quest'anno abbiamo ospitato dei buyers del Buy Wine e diversi importatori da tutto il mondo, che importano anche Sirac francese, australiano, hanno riscontrato e riconosciuto la grande qualità del Sirac di Cortona e la qualità alta di tutti i vini del nostro consorzio, che loro hanno degustato. Quindi siamo molto soddisfatti. Diciamo che negli ultimi dieci anni abbiamo raddoppiato la produzione di vino e di uva e dell'imbottigliato. Questa è una grande soddisfazione, tenendo conto che abbiamo superato un periodo di crisi veramente molto, molto, molto pesante. Non solo essere sopravvissuti, ma essere cresciuti in queste circostanze è stata una prova di grande efficienza, efficacia e professionalità. Cortona è una doc piccola, è una doc dove ci conosciamo tutti, è una doc dove accogliamo con affetto e rispetto chi arriva da fuori, che si integra perfettamente, che apprezza e chi ama Cortona. Chianina e Sirac è un evento che è stato ideato da Terre Etrusche, che subito ci hanno coinvolto perché è un matrimonio naturale, vino e chianina è una cosa naturale, assolutamente. Quindi ci hanno coinvolto, abbiamo aderito con entusiasmo e stiamo dandole dei risultati eccezionali. Ci aspettiamo il 23, il 24 e il 25 di marzo a Cortona a degustare i nostri vini, la nostra carne, la nostra cucina e il nostro stile di vita. Grazie.